Le squadre antincendio del Corpo Forestale del Disseccamento di Barcellone, in provincia di Messina, sono state impegnate nel pomeriggio di ieri su due incendi. Il primo a Brafia, frazione di Castro Reale, in località Cogina. L'incendio, dai primi rilievi degli agenti del nucleo operativo regionale, in Oras, sembrerebbe di chiara matrice dolosa. Le fiamme si sono sviluppate velocemente e hanno minacciato alcune abitazioni. Solo grazie al tempestivo intervento e all'esperienza delle squadre 6 e 7 del Servizio Antincendio del Corpo Forestale, si è evitato il peggio. A Barcellona, Pozzo di Gotto, incontrata Portosalvo, è intervenuta tempestivamente la squadra 8, bloccando il fronte del fuoco che, partito dalla vicina Fiumara, si sviluppava alla base del costone del centro abitato.